Globalizzazione e mafia sono come un binomio indissolubile. È proprio grazie all'import-export di violenza, infatti, che il parassita della criminalità organizzata si è diffuso in tutto il mondo senza badare ad alcun tipo di confine. Tra le varie organizzazioni mafiose, però, ce n'è una in particolare che raramente si è mossa e che non ha accettato alcun tipo di contaminazione esterna, andando a rispecchiare quello che è l'isolamento che per millenni ha caratterizzato la sua terra d'origine. Ci troviamo in Giappone e oggi trattiamo la sua mafia per eccellenza, la Yakuza. La Yakuza sembra essere il più antico gruppo mafioso del mondo, formatosi e sviluppatosi nel XVII secolo quando due gruppi, i Bacto, giocatori d'azzardo incalliti, e i Tequilla, venditori di merci rubate, decisero di unirsi. E anche il nome deriva proprio da uno dei giochi d'azzardo più ricorrenti in cui lo Yakuza era il peggior accostamento di carte possibili, andando a rimarcare come era nata la Yakuza, ovvero come la peggior combinazione di persone in circolazione. Tratto distintivo che caratterizzava e caratterizza tuttora gli affiliati sono gli resmi, questi tatuaggi che coprono buona parte del corpo, rappresentanti tigri, serpenti o creature della mitologia del folclore giapponese, come draghi o demoni. Questa particolarità, che possiamo definire affascinante, è al contempo macabra, se pensiamo che vi è un'ala del mercato nero che si occupa proprio di scuoiare le pelli degli Yakuza ormai morti e venderle per poi esporle come opere d'arte. Come per altre organizzazioni criminali, nostrane o comunque occidentali, anche qui abbiamo una divisione in famiglie e una struttura gerarchica, alla cui sommità abbiamo la famiglia Yamaguchi Shigumi, originaria di Kobe, che è la più potente e conosciuta e su cui si sono basati per videogiochi, manga, serie tv e film. Le attività principali della Yakuza sono il gioco d'azzardo, l'estorsione, il traffico d'armi ed esseri umani, la protezione a pagamento e la prostituzione. Ed è proprio con quest'ultimo in particolare che durante la seconda guerra mondiale la Yakuza iniziò a ottenere grandi consensi, visto il servizio alquanto particolare che offrivano. Gli affiliati avevano creato un meccanismo con cui mandare delle comfort women ai soldati del fronte. Era una pratica deplorevole certo, ma era comunque vista come un aiuto per supportare le truppe del sollevante. È però con il boom economico tra gli anni 70 e 80 che la Yakuza si espande più che mai, riuscendo a stringere accordi sotto banco con le truppe alleate stanziate in Giappone nel dopoguerra e potendo così vincere appalti e penetrare i settori dell'edilizia, della ristorazione e della politica, andando addirittura a influenzare quella che era l'economia globale del tempo. Ma se da una parte vi è anche un primo tentativo di diffondersi al di fuori dei confini del Giappone mandando divisioni in Asia e America, dall'altro è questo il primo momento in cui abbiamo delle lotte intestine e un vero e proprio inizio di una guerra civile interna alla Yakuza causata soprattutto per motivi legati alla successione nella scelta di nuovi capifamiglia. Questo provoca un susseguirsi di scontri a fuoco e lo Stato e la Polizia sono costretti a scendere in campo, sancendo l'inizio di quella che sarà una vera e propria guerra con tanto di bollettino delle vittime segnato sulle principali testate che va a aggiornarsi ogni qualvolta vi è un nuovo conflitto a fuoco indicando il numero di morti tra la Yakuza e i poliziotti. È solo nel 2011 che vengono promulgate delle leggi direttamente contro gli Yakuza volte a limitarne la libertà degli affiliati e a tutelare il cittadino, anche se in realtà difficilmente un affiliato andrebbe a infastidire un comune giapponese. Da sempre infatti il target principale della Yakuza sono le grandi compagnie, avendo addirittura un corpo specializzato chiamato Sokaya che si occupa di presenziare le principali riunioni degli azionisti per fare in modo di pressare le compagnie facendo capire l'interesse della famiglia. Inoltre se ormai difficilmente la Yakuza prediliga l'omicidio come metodo di estorsione, ovviamente non è stato sempre così. Basti pensare al caso del vicepresidente della Fujifilm quando nel 1994 si rifiutò di pagare una tangente milionaria e fu eliminato tagliato in due con una katana, arma caratteristica dell'organizzazione scelta appositamente per le esecuzioni. Nonostante tutto ciò anche attualmente l'immagine della Yakuza è abbastanza controversa. Parliamo chiaramente di un'associazione criminale però è anche vero che nei momenti di maggior criticità del Giappone si è sempre attivata. Basti pensare al disastro nucleare di Fukushima o a catastrofi naturali come il terremoto di Kobe del 94 o lo tsunami del 2011 in cui la Yakuza si è attivata prontamente mettendo a disposizione i propri magazzini per ospitare gli sfollati o distribuendo beni di prima necessità gratuitamente. Il tutto in maniera subdola e anche abbastanza plateale facendo arrivare i propri elicotteri privati. Inoltre nonostante i membri della Yakuza siano misogini abbiamo infatti una struttura patriarcale in cui sono pochissime le donne che entrano effettivamente nell'associazione e siano anche xenofobi non accettando in alcun modo che ci sia uno straniero all'interno dell'organizzazione sono estremamente interessati a mantenere attivo il turismo e infatti tendono a mantenere un rigoroso controllo delle proprie zone affinché non avvenga alcun tipo di crimine che possa andare a spaventare i turisti. E' anche per questo che per alcuni giapponesi gli Yakuza sono i diretti discendenti dei samurai, guerrieri mossi dall'onore, armati di katana e proprio come un tempo tuttora continuano a persistere delle antiche tradizioni. Ad esempio il rito di iniziazione per entrare nella Yakuza. Il nuovo affiliato deve infatti recarsi in un tempio shintoista dove berrà da delle ciotole del sake insieme al nuovo capofamiglia. Dovrà inoltre superare un test scritto in cui vi saranno domande riguardanti le leggi giapponesi e dovrà poi prestare un giuramento in cui si impegnerà a non attaccare o derubare un membro della famiglia, a onorare la famiglia rispettando qualunque ordine gli venga affidato e a rimanere all'interno della famiglia per tutta la vita. Pena la morte o lo yubitsume, ovvero la pratica del taglio della falange del mignolo. Questa pratica che oggi ha più una valenza simbolica che pratica, in passato invece questo era un grande handicap perché per impugnare una katana saldamente ci si affidava proprio ai mignoli e una perdita della presa della propria katana significava un indebolimento generale e una incapacità di sapersi difendere. Mentre nel 2010, poco prima della promulgazione delle leggi mirate, la yakuza prevedeva circa 70.000 affiliati divisi in 2.000 gang e famiglie, attualmente esistivano circa 25.000 affiliati ed è un numero che sembra in costante diminuzione. Perché nonostante l'organizzazione continui attualmente ad esistere e in alcune zone abbia mantenuto ininterrottamente il proprio potere in maniera assoluta, questo male necessario non sembra essere più così imprescindibile per il Giappone moderno. Senza contare che queste leggi sono andate sempre più a minare la libertà dell'affiliato. Non può comprare o affittare case in determinate zone, non può recarsi in luoghi pubblici come le classiche saune giapponesi, palestre, luoghi per famiglie, in quanto sono banditi qualunque tipo di tatuaggi o ovviamente la presenza di persone che hanno subito lo yubisme. È anche vero però che queste sono stime difficili da calcolare, senza pensare che attualmente quando parliamo di gioco d'azzardo o prostituzione in Giappone, anche per uno straniero è facile fare un collegamento istantaneo alla yakuza, che tra l'altro dal 2016 ha anche un proprio giornale a tiratura mensile in cui ci sono i principali gossip legati alle famiglie, matrimoni imminenti, nuove alleanze e addirittura si può scrivere ai membri dell'associazione. Capiamo bene che questa è una situazione surreale in quello che è un equilibrio a dir poco paradossale e chissà se avverrà mai qualche evento che andrà a bloccare questo meccanismo, questa coesistenza forzata tra stato e yakuza in favore ovviamente dello stato. Io sono Francesco Ladalardo e questo è il mio video approfondimento sulla yakuza che spero possa essere risultato interessante.